chiara valerio benvenuta in questa maratona per save the children e riflettiamo stiamo riflettendo in questi giorni su che cos'è impossibile su cosa possiamo fare come esseri umani cosa possiamo fare anche per esempio a livello di educazione di cambiamento del nostro percorso in italia c'è ancora l'idea che in qualche modo i percorsi siano precostituiti che siano rigidi che siano standard tu hai compiuto stai compiendo ancora un percorso molto interessante anche come dire abbastanza particolare perché ti sei formata in matematica soprattutto hai insegnato anche a scuola e in realtà un'altra grandissima passione è quella della scrittura quindi ti occupi di scrittura a livello personale appunto come autrice come romanziera e poi anche all'interno di del mondo editoriale quindi appunto lavori anche ai libri degli altri e sembra una cosa impossibile sembra una cosa strana quindi ci puoi raccontare un po come l'hai reso possibile se tu l'hai reso possibile o se è accaduta qualche altra cosa e come le persone magari le persone giovani soprattutto in italia possono superare in qualche modo l'idea che ci siano dei dei ricinti delle delle barricate tra discipline diverse mauragan citano io penso che la questione la questione dell'impossibile riguardi il tempo cioè è impossibile quando o è impossibile anche come quindi un tempo è un modo ovviamente penso sempre che la questione del linguaggio è propria e forma tutti i nostri pensieri e quindi il nostro alla nostra grammatica come si dice con questo termine che sembra stranissimo ma d'altro abbiamo imparato un sacco di termini strani nei cartoni animati giapponesi nei manga è ipotattica che significa che c'è le subordinate ecco e le subordinate portano sia il tempo che il modo se noi abbattiamo le subordinate cioè non abbiamo il tempo e il modo quello che succede è che non sappiamo ragionare su certe cose quindi l'impossibile è impossibile in sé un impossibile assoluto perché non abbiamo né il tempo né il modo per scardinarlo e questa è la prima questione che che vorrei dire a tutti attenzione a come parliamo perché in base a come parliamo il modo in cui parliamo determina il modo in cui pensiamo il modo in cui agiamo il modo in cui decidiamo di poter fare o non poter fare le cose e questa è la prima cosa poi io non ho mai creduto che ci fosse una differenza questo per struttura e per fortuna familiare o geografica quindi per una provincia e per dei genitori che in qualche modo non avevano da percorsi precostituiti non ho mai creduto che ci fosse tanta differenza tra la razionalità e il sentimento tutti quanti possediamo sia razionalità che sentimento ma dipende da che cosa stiamo guardando o da che cosa vogliamo da una determinata situazione quindi credere che le discipline scientifiche le discipline cosiddette umanistiche siano separate soprattutto credere che le discipline scientifiche non siano umanistiche già che l'umano ha a che fare con la comprensione delle cose del mondo col tentativo soprattutto col fallimento di comprensione del mondo ecco tutte queste cose qua io non le ho mai viste separate maura che incitano e quindi la cosa che ho provato a fare è semplicemente percorrerle anche col corpo perché in fondo percorrere le cose col corpo spostarsi per andare da una parte all'altra è un esercizio di misura ecco io penso che la razionalità e il sentimento le discipline cosiddette umanistiche le discipline cosiddette dure con calco dal francese siano in realtà due modi per misurare le cose quindi il punto è noi vogliamo misurare le cose ed accorgerci che sono piccole o grandissime o abbiamo paura di misurare le cose e accorgersi che sono piccole o grandissime ecco l'impossibile a che fare col come col quando e col timore però eh il timore non è una cosa morale è una specie di secrezione fisica noi abbiamo paura quindi come tutte le secrezioni fisiche come per esempio il sudore e noi ci passiamo il tempo a impomatarci a improfumarci per togliere quella quella lone quella lone quella flore ecco io penso che noi possiamo toglierci anche la flore del timore rispetto a questioni che siano anche intellettuali eh o rispetto a questioni che siano soprattutto politiche come tutte le questioni sono politiche quindi credo che la la mia il mio scetticismo il mio esercizio dell'incredulità si sia anche sempre applicato all'impossibile e al fatto che i confini di qualsiasi tipo eh essi siano sono fissi ecco io non credo né alla fissità né all'impossibilità perché penso che tutte queste cose dipendono da un contesto il contesto si può modificare da soli e insieme. Grazie. In un'intervista hai dichiarato sempre pensato che leggere e studiare siano un principio di democrazia e quindi ti chiedo ehm qual è secondo te il ruolo dello studio? Eh quanto secondo te è importante renderlo accessibile a vari livelli eh quindi da a partire appunto dall'accessibilità forse anche alla ehm a tutto quello che si trova o in rete e anche l'accessibilità per esempio della letteratura accademica che molto spesso eh rimane solo patrimonio di di chi appunto può accedervi e e quanto educante e e quanto è importante educare le persone alla lettura fin dall'infanzia perché sembrano tutte delle cose come dire delle cose sorpassate o dei discorsi retorici che magari fa chi poi in prima persona non legge o non studia quindi volevo chiederti ehm quanto insomma perché lo ritieni un principio di democrazia e quanto secondo te sia un esercizio importante ancora. Ora Cancitano cosa abbiamo fatto quando non sapevamo quanto era vasto il mondo? Abbiamo cominciato a esplorarlo eh alcune persone non tornavano indietro da queste esplorazioni però ci andavamo e e cosa abbiamo cominciato a fare dopo aver cominciato a camminare in quel mondo così ignoto? Abbiamo costruito delle mappe queste mappe inizialmente erano approssimative o erano immaginate immaginavamo che ci fossero delle terre o che certe americhe fossero lì dove erano le indie abbiamo immaginato e disegnato mappe e abbiamo gerarchizzato tutto quello che avevamo intorno in qualche modo per poi passare oltre queste gerarchie questi elenchi ecco io penso che oggi abbiamo a disposizione nella rete ciò che abbiamo avuto a disposizione sempre con il cielo stellato e come corpi fisici nel mondo quindi quando noi andiamo nella rete abbiamo bisogno di di mappe abbiamo bisogno di gerarchie che sono ovviamente fisse per un certo periodo sono valide per un certo periodo poi passano perché vengono altre persone che disegnano delle mappe più specifiche lo studio fa esattamente questo lo studio disegna le mappe quindi studiare significa avere la possibilità di gerarchizzare alcuni concetti che ci sembrano bastissimi disegnare quelle che possiamo chiamare la via della seta che ci portino da una parte all'altra o di rotte che pensiamo che ci portino in un luogo ma ci portano in un altro però quello che è importante è segnare il percorso ma questo lo sappiamo dalle favole noi sappiamo che pollicino quando i genitori lo portano nella foresta che cosa fa lascia lascia delle briciole poi le briciole vengono mangiate lascia lascia dei sassi quello che noi facciamo è lasciare sassi perché qualcuno ci segua e nel caso ci salvi o comunque prosegua oltre quello che abbiamo proseguito ecco lo studio è questo lo studio è lasciare i sassi e lasciare le briciole in un luogo sconosciuto perché qualcun altro non si trovi a ricominciare tutto da capo la cosa bellissima è che se noi capiamo che lo studio fa esattamente questo cioè ci dice di passare il testimone di dare una staffetta di raccogliere sassi lasciati da altri noi sappiamo che l'identità è un concetto abbastanza sfittico ma un'identità di specie ha a che fare con lo studio la nostra identità di specie è lo studio la nostra identità di specie è la parola inoltre in un mondo che appunto prende a una preminenza una predominanza o una sovrabbondanza digitale le discipline scientifiche aiutano in qualche modo a conoscere linguaggi che governano e programmano le macchine quindi perché non conoscere la matematica la fisica l'ingegneria la chimica come prima abbiamo conosciuto la letteratura oppure abbiamo conosciuto le immagini oppure come hanno fatto i romani che lasciavano siccome tutti parlavano lingue diverse lasciavano delle icone perché tutti potessero riconoscere delle cose anche quelli erano sassi anche quello erano studio anche quelli erano dei segni a posto quindi la questione questa lo studio è centrale perché lo studio appartiene alla nostra identità di specie noi siamo evoluti il nostro cervello fisiologicamente evoluto perché abbiamo cominciato a parlare perché sostanzialmente abbiamo sviluppato il pensiero astratto quindi negare la possibilità o l'interesse allo studio significa negare l'umanità ma io ci sono legata non ho figli sfortunatamente maura gancitano ma io spero che i miei nipoti o i bambini che non sono né i miei nipoti né i miei figli possano continuare a vedere marcire fiorire questa umanità a cui apparteniamo io penso che per fare questo sia necessario studiare perché lo studio ti educa la democrazia nel senso che ti educa a passare il testimone ti educa a non pensare ossessivamente a chi sei tu a quando sei e a dove sei ma come sei dentro una comunità la libertà da soli non è interessante interessante la libertà all'interno di una comunità e per avere la libertà all'interno di una comunità bisogna stabilire dei codici per non dire delle regole ecco lo studio da questo tipo di codici grazie in questi giorni appunto di di maratona con save the children che sono legati al festival che se decide sta facendo a roma stiamo parlando di infanzi di mancanza stiamo parlando di possibilità di risorse perché effettivamente chiediamo ci si lamenta moltissimo delle generazioni più giovani della difficoltà di concentrazione della frammentazione dell'attenzione come in realtà fosse una loro responsabilità o come se fosse un fenomeno che riguarda solo le persone più giovani non è affatto così sicuramente quando si parla di risorse quando si parla di mancanze si parla di qualcosa che è come dire sta in capo alle generazioni precedenti secondo te in questo momento avendo lavorato nella scuola avendo scritto anche su sull'infanzia essendoti occupata avendo riflettuto molto su questo in vari modi diversi anche scrivendone sui giornali insomma davvero anche appunto come intellettuale ehm come si possono superare queste mancanze e come tornando anche alla prima domanda poi eh tutto questo perché noi in Italia siamo convinti un po' che che certe questioni siano croniche e ormai irrisolvibili tutto questo impossibile possa diventare possibile. Mauro Cancitano io le confesserò che non sono mai uscita dall'infanzia eh e quindi penso che le uniche traduzioni tradizioni che esistano siano le traduzioni quelli le tradizioni di quelli che vengono dopo mia nonna diceva in napoletano non fa male a carne che cresce che significa in qualche modo non fare male a quelli che vengono dopo di te che però che cosa significa non fare male affidati quindi probabilmente il novecento che è dentro di me dice che la concentrazione così come l'abbiamo conosciuta fino a oggi ha dei parametri cioè passare il tempo col corpo fisso su certi testi ma può darsi che esista un altro modo di concentrazione che io non conosco e che sta invece in questi bambini in questi ragazzi può darsi che la loro concentrazione sia una concentrazione di rete può darsi che assumi di più al modo di pensare delle piante cioè che ciascuno di loro naturalmente si trovi ad essere una terminazione di un sistema che pensa insieme quindi a oggi certo io che sono nata nel 1978 che ho passato la maggior parte del mio tempo seduta in una biblioteca o seduta a leggere penso che oggi quella concentrazione lì non ci sia più ma io confido che ce ne sia un'altra che io oggi non capisco e che verrà una persona che ha sette anni a spiegarmi come funziona perché io confido che siccome lo studio il pensiero la gerarchizzazione il ragionamento siano proprie della nostra specie penso che evolvano generazione per generazione anche se le generazioni sono avvicinate quindi la domanda che vorrei fare a tutti i bambini che ci stanno e i ragazzi che ci stanno seguendo è me la spiegate questa vostra concentrazione che ha a che fare col vostro parlare col vostro utilizzare i telefoni col viva voce perennemente col vostro giocare insieme a persone che vengono da un'altra parte del mondo e con solo questo gesto aver abbattuto idea di confine politico perché i dati stanno messi tutti quanti insieme quindi i dati dei dati vostri i dati nostri stanno tutti quanti insieme insieme a persone che sono nati in sud est Asia oppure in Africa ecco me la spiegate questa vostra concentrazione di rete se esiste perché io sarei curiosissima di riuscire nei miei 44 anni a imparare questa nuova questa nuova concentrazione ecco l'impossibile per tornare alla sua prima domanda ha a che fare con l'inaccettabilità che le cose cambino e l'inaccettabilità e accettare che le cose cambino ma ora che anzitano un principio di infinita democrazia perché se le cose cambiano i privilegi non rimangono sempre gli stessi se le cose cambiano può darsi che i privilegi si trasformino in diritti se le cose cambiano e le cose muoiono anche significa che c'è possibilità per tutti di raggiungere in qualche modo una maggiore comprensione del mondo il cambiamento e la metamorfosi sono sono l'unico l'unico principio che uno dovrebbe esercitare e non c'è impossibile nella metamorfosi questa è la cosa che mi emoziona tanto nella mia infanzia in peritura e in questo ci sono molte filosofie appunto che che stanno proprio ragionando su questo ed è bello l'idea appunto di farsi di chiedere a un bambino di spiegare come fa le cose perché l'ultima domanda che ho da fare esattamente il contrario cioè come si può spiegare l'impossibile il possibile a un bambino una bambina eh forse proprio perché come dire questa eh questo incastro in qualche modo di di domande quasi speculari in realtà è poi la costruzione di un ponte quindi forse dovremmo chiedere a bambini e bambine di spiegarci delle cose ma forse anche noi eh persone nate nel novecento eh forse abbiamo qualcos'altro da dire è anche una forma di dialogo che che non è così frequente purtroppo ma come si potrebbe raccontare dal punto di vista dell'intelligenza novecentesca diciamo così eh l'impossibile il possibile a una persona molto giovane ehm il possibile è tutto quello che puoi fare con le tue forze e le forze del tuo contesto l'impossibile è qualcosa che devi immaginare in base alle tue forze e alle forze del tuo contesto che però non è immediatamente realizzabile il possibile è ciò che puoi toccare e ciò che puoi raggiungere immediatamente in base a te e al tuo contesto l'impossibile è ciò che puoi immaginare di raggiungere in base alle tue forze e a quelle del tuo contesto ma bisogna tenere sempre presente che laddove è immaginabile il percorso è immaginabile la meta anche se certe volte ci vuole più tempo grazie grazie mille Chiara Valerio per essere stata con noi per averci regalato eh tutte queste intuizioni e insomma grazie da parte nostra sicuramente da parte di Save the Children e da parte di tutte le persone che hanno seguito grazie a voi ciao bambini grazie a tutti